Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Signorina Scognamiglio, mi dica un po', nel monomio meno A3B2C dov'è il coefficiente numerico? Sarebbe la C. Ah, la C. Mi piace. Lei comincia con un bel meno, per quanto mi riguarda, perché la C è una lettera. Sì, ma se non mi puoi spiegare nemmeno. No, 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 no. Lei va... Eh, qui! Venga qui! Qui! Se io sono a scuola, se ne puoi imparare, non è che lei mi sconette addosso. Lei viene qui, esce quando lo dico io e fa la persona educata di fronte a me. Ascolta in silenzio e risponde. Mi sto ascoltando, io stavo ascoltando. E continua. No, allora non abbiamo capito l'atteggiamento. Ma forse devo stare così per stare più a livello suo e capire qual è il giusto atteggiamento con me. Ma lei ha sbagliato l'atteggiamento con me. Io! Se io la correggo, c'è il modo, il modo di reagire. Ma lei non mi ha corretto, mi ha detto semplicemente, scusi io, meno, meno. Io penso che lei abbia fatto questo, penso che lei mi abbia puntato senza motivo di base. Senza motivo di base io l'avrei puntata, quindi? Lei è nelle mie mire al negativo. Secondo il mio ragionamento. Non si permetta mai più di sollevare il banco e andare via come l'ha fatto prima, perché se no lei rischia, ma rischia, rischia, rischia. Si accomodi, prego. La C era diventata il nostro coefficiente numerico. Sì, ma uno può sbagliare, non è che... Ancora. Vabbè, mi staslegge. Continui così perché i meno sono diventati due. Vabbè, mi interessa. La prossima. A lezione terminata. La patata la posso prendere? Allora forse non ci siamo spiegati, se ne deve andare. La professoressa Pettolicchio sente il bisogno di un chiarimento con la scognamiglio. Signorina scognamiglio, che cosa le ha dato fastidio? Mi sono sentita comunque attaccata da parte di vostra persona, ho riuscito in quel modo. Non era mia intenzione attaccare lei in particolare, però si renderà conto che nel momento in cui lei ha avuto quella reazione, io non potevo certo far finta di niente. Volevo chiedervi scusa per il mio comportamento, solamente che mi sono sentita attaccata, per cui sto reagendo in questo modo e voglio imparare a andare bene a scuola. Bene. Lei si pensa da grande e come si pensa a fare cosa? La musicista. La musicista? Oh che bello. Lei suona già qualche strumento? Canto piano forte. Mamma mia, gli stessi miei alla sua età. Chissà che non diventi pure lei una professoressa di matematica. Io non credo proprio che diventino una professoressa di matematica, ma mai. Eh? Dunque, io accetto tutte le sue scuse. Ricominciamo tutto da campo. Va bene? Sì. Bene. Si può accomodare. Grazie, arrivederci. Sono una persona educata, solamente che se mi attacca le persone, soprattutto quando sono già di mio che sto così, perché mi manca la mia famiglia e tutto. Grazie. 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 Grazie.